Loewe presenta Build 9 OLED, l'originalità estetica e la qualità del celebre marchio tedesco abbinata a diverse funzioni speciali molto utili. Vediamo le sue caratteristiche principali. Design raffinato ed elegante, pannello OLED, risoluzione Ultra HD con HDR e Dolby Vision. Decoder multicanale 5.1 integrato, hard disk da 1 TB integrato e diverse funzioni speciali. Soundbar integrata da 120 Watt. Loewe Build 9 non passa inosservato, si ispira ai ruggenti anni 20, alla Bauhaus e all'Art Deco. Il supporto da pavimento, quello da tavolo e il supporto da parete sono completamente in acciaio inox, saldati, levigati e lucidati a mano, dei veri pezzi di artigianato. La serie Build 9 integra pannelli OLED di ultima generazione con HDR e Dolby Vision per immagini sempre estremamente nitide con colori naturali e brillanti. Loewe Build 9 adotta anche funzioni speciali per chi vuole personalizzare la fruizione del mezzo televisivo. L'hard disk integrato offre diverse possibilità. La funzione digital recording ci permette di mettere in pausa un programma in diretta e riprendere la visione in qualsiasi momento. La funzione multi recording ci consente di registrare fino a due canali contemporaneamente mentre un terzo è in riproduzione. Con mobile recording invece non perderemo più i nostri programmi preferiti anche quando siamo fuori casa perché potremo registrarli da remoto per poi riguardarli quando rientriamo. Il potente comparto audio offre un decoder 5.1, sarà quindi facilissimo collegare il nostro impianto home theater al televisore. Basterà un solo cavo e potremo usare la soundbar come canale centrale senza preamplificatore esterno. Build 9 si abbina facilmente ai sistemi audio wireless Loewe dandoci la libertà di un'installazione senza fili. Disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, Build 9 è un riuscito connubio di personalità e prestazioni. Parola di Loewe.